Allora mi chiedo in inglese e puoi raccontare l'italiano, ok? Va bene. Ok. Vincenzo, quando abbiamo visto tu nelle ultime gare, ovviamente il formaggio è molto buono questi giorni. Sì, le ultime gare stavo molto bene, ho fatto un bel secondo posto dietro Van Aert e oggi è una buona opportunità per me e cercherò di fare il meglio. Ma che tipo di gare aspettate oggi? Perché è un corso difficile. Quindi sarà una gare un po' come in Mondi ad Bernocchi o sarà diverso? Sì, il finale è molto duro, sicuramente non sarà facile arrivare in volata, ma vediamo come si mette la gara e come verrà affrontata. Per te l'idea è di survive, di stare a fronte. C'è un modo di anticipare per il tuo team per provare qualcosa di altro? No, adesso sto molto bene anche in salita, quindi proverò a stare con i migliori se un gruppetto andrà via. e poi se c'è un'opportunità di provare ad anticipare i migliori ci proverò. Qual è il tuo programma per i prossimi giorni? Questa è una delle mie ultime gare, farò il Giro del Veneto e il Veneto Classic e ho finito. Grazie mille, buca lupo! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!